Buongiorno. Buongiorno, appena i nostri fotografi si accomodano, grazie. Buongiorno, qui oggi presenteremo una nuova funzione di russo, lo scudo della rete. Inizierà la conferenza stampa il vicepresidente della Camera Paola Taverna. Buongiorno, buongiorno a tutti. È per me un piacere e un onore essere qui con voi. Oggi faccio da madrina per la presentazione di una nuova funzione di russone. Ne avevamo già parlato nei giorni precedenti, ma oggi questa funzione assume il suo aspetto finale con tutte le caratteristiche che poi vi verranno spiegate da Alfonso Bonafede che ne è il referente. Come sapete, molti di noi in quanto iscritti al Movimento 5 Stelle, io ne sono anche portavoce, sono i referenti di alcune funzioni. Io personalmente mi occupo di activism. E il russo rimane per noi lo strumento principe per promuovere quelli che sono dei punti fondanti del Movimento 5 Stelle, la rete, la cittadinanza digitale, la partecipazione diretta. Ed è in quest'ottica e con il principio di continuare su una strada che è la strada maestra che ci vede portare avanti la partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica e sociale del Paese stesso, oggi presentiamo questa nuova funzione e Alfonso Bonafede ve ne elenca quelle che sono le caratteristiche tecniche. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie. Non mi nascondo di essere particolarmente emozionato nel presentarvi lo scudo della rete nella sua nuova versione e mi piace a tal proposito precisare che lo scudo della rete nasce addirittura prima del Movimento 5 Stelle. Un'idea che venne a suo tempo a Beppe Grillo a Gianroberto Casaleggio con cui di dare la possibilità a tutta una serie di avvocati che volevano sostenere pro bono i cittadini, ecco, di dare la loro disponibilità e di cominciare a unire cittadini tra di loro per raggiungimenti di obiettivi comuni. Oggi lo scudo della rete parte nella sua nuova versione che è più strutturata, ci abbiamo lavorato tanto perché richiede un funzionamento particolarmente articolato e ve la presentiamo. Ora io vado avanti con le slide, sì, solo che qui non si vede. Allora, ok questa, ok. Perfetto, come vedete questa è la funzione più importante dello scudo della rete e cioè difendere gli iscritti e gli eletti nelle battaglie legali che portano avanti sul territorio nella realizzazione dei valori e degli ideali del Movimento 5 Stelle e tutelare il Movimento 5 Stelle e l'Associazione Russo. Quindi come vedete proprio le tre parole chiave sono tutelare, proteggere e contribuire perché la finalità è proprio quella di tutelare i diritti dei cittadini e di proteggerli per esempio da cause vessatorie e nello stesso tempo quella di contribuire perché qui ci sarà una rete di avvocati che si metterà a disposizione dei cittadini. Lo scudo della rete molto in generale dà la possibilità di accedere ad un elenco di avvocati adesso lo vedrete meglio, che sono disponibili a svolgere la loro assistenza legale a condizioni economiche molto agevolate per le battaglie che vengono portate avanti dagli iscritti che possono essere portavoce nelle istituzioni come consiglieri comunali, regionali ma possono essere anche semplicemente iscritti che stanno portando avanti, quindi attivisti che stanno portando avanti cause importanti proprio per la realizzazione degli ideali del Movimento 5 Stelle. Qui avete un primo elenco di possibilità che abbiamo individuato che sono le possibilità su cui fino ad ora ci sono arrivate più richieste e cioè casi per esempio in cui bisogna difendersi da denuncia querela per presunta diffamazione molte volte sul territorio i nostri consiglieri comunali fanno una denuncia molto importante magari contro lobby di potere molto forti allora basta che la grande lobby che viene attaccata dal nostro consigliere comunale legittimamente perché sta portando avanti una battaglia politica la grande lobby che si sente attaccata basta che mette il suo pool di legali fa partire una querela con richieste risarcitorie enorme e chiaramente questo può avere uno scopo intimidatorio nei confronti di un consigliere comunale che sta portando avanti una battaglia politica l'altra ipotesi prevista è quella dell'esposto per esempio alla Corte dei Conti o alla Procura concernente gravi disservizi o carenze in servizi pubblici spesso i nostri consiglieri vengono a conoscenza della possibilità di disservizi per esempio in ospedali per gli utenti e allora devono scrivere un esposto e anche in quel caso è necessaria un'assistenza legale impugnazione al TAR di atti amministrativi illegittimi accade come tutti sapete che sul territorio le varie amministrazioni comunali procedono magari all'approvazione di atti che però hanno dei profili di illegittimità magari molto grave anche lì spesso i nostri portavoce eletti nell'istituzione ma anche i cittadini iscritti che subiscono le conseguenze di quell'atto avranno la possibilità di accedere allo scudo della rete per le impugnazioni al TAR Costituzione di parte civile in pubblici scandali e poi abbiamo indicato altri contenziosi o consulenza inerenti alla tutela dei valori e delle attività del Movimento 5 Stelle questo mi piace chiarirlo perché non è che si può andare dall'avvocato e avere delle condizioni agevolate per una causa personale non è che un iscritto o un consigliere comunale si deve separare e va dall'avvocato e ha la condizione agevolata a meno che io faccio sempre questa battuta non si stia separando perché essendo consigliere del Movimento 5 Stelle ha una vita familiare piuttosto travagliata però al di là della battuta ci teniamo molto a specificare che lo scudo della rete ha una funzione sociale bellissima cioè quella davvero di stare vicino ai cittadini talmente vicino da tutelare i loro diritti nella misura in cui queste persone si stanno impegnando per la società chiaramente è riferito anche agli avvocati quindi aiutaci anche tu è riferito agli avvocati perché si vuole evitare che la mancanza di risorse economiche possa pregiudicare la tutela dei diritti che poi questo purtroppo è un problema serio che riguarda la giustizia italiana perché tanti cittadini in generale rinunciano alla tutela dei loro diritti perché le cause richiedono tempi e costi troppo elevati qui questa è una frase di Calamandrei che è il faro dello scudo della rete la stella polare la legge è uguale per tutti è una bella frase che rincuore il povero quando la vede scritta sopra le teste dei giudici sulla parete di fondo delle aule giudiziarie ma quando si accorge che per invocar l'iguaglianza della legge a sua difesa è indispensabile l'aiuto di quella ricchezza che egli non ha allora quella frase gli sembra una beffa alla sua miseria ed è proprio per questo che si chiede agli avvocati di mettersi a disposizione a condizioni agevolate ecco questa è proprio rivolto agli avvocati chi vuole dare in tutta Italia la propria disponibilità lo può fare deve chiaramente completare tutto un modulo che noi abbiamo predisposto in cui si chiede all'avvocato quali competenze ha quale foro appartiene poi tutti gli avvocati che daranno la loro disponibilità saranno inseriti in una cartina geografica dell'Italia in modo tale che sul territorio l'iscritto e il portavoce avranno la possibilità di indicare di verificare l'avvocato più vicino a loro con le competenze che servono in quel determinato caso è stato aperto un conto perché il Movimento 5 Stelle come sapete non accetta finanziamenti pubblici e appunto si chiede il contributo di tutti per sostenere l'attività dello scudo della rete grazie poi ci saranno le varie domande ma ci tengo davvero a sottolineare l'aspetto sociale di questa funzione e ci tengo a sottolineare anche che questo è un punto di partenza man mano che andrà avanti in base alle richieste che verranno fatte su tutto il territorio avremo la possibilità anche di capire quali sono le esigenze particolari dei cittadini e modellarlo sulla base di quello per cui partiranno anche delle azioni magari su un determinato tema per esempio poi individuare un pool di avvocati che possa occuparsi delle cause che hanno ad oggetto la tutela per esempio di un sito particolarmente inquinato allora il cittadino che è iscritto all'associazione di Rousseau e che sa che vicino a casa sua c'è un sito particolarmente inquinato ecco ha la possibilità in quanto cittadino a quel punto non solo di fare la denuncia ma a differenza di tanti cittadini che denunciano ma che poi si sentono in qualche modo abbandonati ha anche la possibilità di essere protetto legalmente così come pensiamo vi sto facendo alcuni esempi di quali potrebbero essere i successivi sviluppi cioè incaricare anche avvocati per dare formazione ai nostri iscritti ai nostri consiglieri comunali che devono portare avanti delle battaglie legali e avere la possibilità di avere uno zoccolo duro di conoscenze legali gli può servire oppure ancora per situazioni che hanno una particolare diffusione sociale come per esempio la violenza di genere la possibilità eventualmente di incaricare anche degli studi legali che possano per esempio stare in contatto con i vari centri che ci sono sui territori insomma le idee sono tante oggi è un punto di partenza molto importanti e chiaramente vi terremo aggiornati anche sugli sviluppi grazie passiamo la parola a Enrica Sabatini socia dell'associazione Russo grazie, buongiorno io oggi vi presenterò qualche dato che ci serve per inquadrare un po' la situazione della piattaforma Russo in termini anche di usabilità di utilizzo da parte degli iscritti vorrei però fare una premessa oggi con dopo lo scudo della rete noi completiamo quello che è in realtà un ecosistema molto complesso molto articolato quello appunto di Russo che conta 11 funzioni sempre più spesso veniamo contattati da università particolarmente prestigiose dall'estero che ci chiedono appunto di studiare questo ecosistema che rappresenta non solo uno strumento di democrazia diretta quindi di possibilità di decidere non si sente mi dicono che non si sente non solo un ecosistema quindi per decidere esprimere un voto ma anche un sistema che consente agli iscritti e agli eletti di poter interagire tra loro creando una vera e propria intelligenza collettiva e contiene anche una serie di strumenti di mobilitazione collettiva attraverso i quali stiamo lavorando anche per incrementare sempre più quell'importante percezione di efficacia politica e collettiva che deve essere parte integrante di un cittadino attivo appunto nella vita politica abbiamo quindi somministrato questo questionario oggi vi presenterò dei dati parziali nel senso che questo sondaggio è ancora attivo tra i nostri iscritti ed abbiamo estrapolato dei dati quindi dopo circa 24 ore la nostra idea è quella di sviluppare la piattaforma Rousseau attraverso un percorso di progettualità condivisa ecco perché attraverso questo sondaggio noi abbiamo chiesto ai nostri iscritti indicazioni sul futuro della nostra piattaforma ma anche di indicarci quali elementi potrebbero essere appunto potenziati e o valorizzati proprio nell'ottica dell'utilizzo dell'utente stesso la prima domanda quindi quanto usi la piattaforma Rousseau ci racconta una piattaforma che oggi viene utilizzata prevalentemente per il voto c'è da dire che il voto costituisce dopo lo scudo della rete la forse applicazione più longeva perché dal 2012 che i nostri iscritti o chi partecipa alla vita del Movimento 5 Stelle è chiamato a decidere i propri candidati o piuttosto a prendere decisioni e stiamo lavorando appunto anche su questo aspetto abbiamo chiesto anche ai nostri iscritti dando la possibilità di esprimere tre preferenze qual è la funzione che viene utilizzata maggiormente e se si fa un'analisi generale si vede che appunto le applicazioni che riguardano appunto l'ambito della democrazia diretta quindi voto l'ex Parlamento l'ex Regioni così come l'ex iscritti sono le applicazioni che vengono utilizzate maggiormente per intenderci l'ex iscritti è l'applicazione che consente a un utente di poter presentare una propria proposta di legge mentre le l'ex Parlamento Europa e Regioni sono quelle che consentono agli iscritti di poter emendare o modificare delle proposte di legge che vengono presentate dai propri portavoce quando si va ad analizzare le funzioni che sono ritenute più utili i dati in qualche modo combaciano quindi con l'utilizzo del voto o dell'ex Parlamento però emerge anche tra le funzioni che vengono ritenute più utili quella legata all'e-learning quindi ai corsi online questa applicazione è sicuramente più giovane delle altre perché è stata lanciata a settembre del 2016 ed oggi è composta già da tre corsi che riguardano i portavoce in comune in Parlamento o come si legge un bilancio degli enti locali l'utilità percepita è ovviamente legata al fatto che viene comunque condiviso un contenuto importante che consente agli utenti di poter esercitare se sono portavoce nelle istituzioni la propria attività o se sono semplicemente iscritti di poter in qualche modo conoscere e comprendere anche semplicemente un atto che viene presentato o anche aspetti più complessi come comprendere un bilancio del proprio comune quale funzione secondo utenti incentiva maggiormente la partecipazione anche qui la funzione voto viene individuata dalla maggior parte degli utenti così come quella di l'ex Parlamento quindi la possibilità di poter incidere nelle scelte di poter in qualche modo definire l'indirizzo diciamo alla vita politica risulta essere particolarmente importante abbiamo chiesto anche quale funzione vorresti che fosse appunto sviluppata e anche qui la funzione learning in linea con la percezione di utilità viene individuata tra le funzioni rilevanti in merito a questo voglio sottolineare che questa esigenza questa richiesta formativa che ci viene appunto dagli iscritti oggi con il sondaggio ieri anche con sollecitazioni di diciamo continue è stata soddisfatta anche in questi mesi da un tour che noi abbiamo portato avanti da luglio che ha toccato oltre 16 tappe e oltre 3.000 persone sono state formate proprio attraverso dei percorsi in presenza di formazione con i quali abbiamo ad esempio formato sulla gestione dei rifiuti come si legge un bilancio piuttosto che quali sono gli strumenti di partecipazione e questa attività di formazione che faremo sul territorio insieme ai corsi online verrà sempre di più potenziata anche nell'ottica di nuovi progetti che in qualche modo comunicheremo anche successivamente abbiamo ovviamente poi approfittato anche per fare delle domande in merito all'usabilità quindi a quanto sia facile navigare su Rousseau a quanto sia stata semplice e veloce appunto l'iscrizione e anche il valore che Rousseau ha per l'iscritto questi dati sono stati estremamente positivi in particolar modo il valore che viene attribuito alla piattaforma Rousseau oltre il 95% di iscritti che hanno risposto al sondaggio esprimono un valore positivo quindi Rousseau rappresenta nell'ottica della partecipazione alla vita politica del Movimento 5 Stelle uno strumento che viene considerato particolarmente appunto importante consiglieresti l'iscrizione a Rousseau a un tuo amico anche qui i risultati sono estremamente positivi e viene appunto individuato come uno strumento particolarmente utile abbiamo voluto poi focalizzare anche un aspetto sulla specifica relazione tra gli iscritti e portavoce la nostra idea di democrazia diretta nasce proprio da questo dal fatto che il portavoce non sia una persona al quale viene delegata una funzione ma sia comunque qualcuno che porta la voce degli iscritti e anche qui la soddisfazione ha raggiunto risultati estremamente positivi da qui poi con questa penultima slide abbiamo voluto immaginare anche altri utilizzi della piattaforma russo e l'abbiamo chiesto appunto ai nostri iscritti che hanno dato dei risultati diciamo delle preferenze alte soprattutto sulla possibilità di comunicare con gli altri iscritti presenti sulla piattaforma e sulla formazione al tema della cittadinanza digitale questi due elementi sono in qualche modo dei pilastri sui quali noi stiamo lavorando e continueremo a lavorare proprio perché le indicazioni dei nostri iscritti in qualche modo confermano anche una nostra direzione un'ultima slide sul voto nello specifico su abbiamo chiesto appunto quali fossero le caratteristiche da potenziare ci hanno chiesto di annunciarlo con maggior anticipo ed avere più tempo per la votazione continuando quindi a confermare un ruolo centrale di tutte queste attività queste indicazioni verranno poi portate avanti nella progettualità e abbiamo intenzione anche di organizzare dei focus group con gli iscritti per andare nel dettaglio appunto delle singole funzioni e delle applicazioni e creare quindi questo ecosistema che consenta al cittadino quindi all'iscritto alla piattaforma Rousseau di partecipare alla vita politica del Movimento 5 Stelle non solo in termini di democrazia diretta ma anche di possibilità di connettersi agli altri e di incidere nella vita reale grazie 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 a tutti e mi ha fatto molto piacere anche oggi poter annunciare un importante sviluppo della piattaforma Rousseau che è stato lo scudo della rete e mi fa anche molto piacere vedere che siamo riusciti a mettere in pista diversi sviluppi importanti che verranno annunciati anche nelle prossime settimane un evento tra tutti che vi comunico è il 27 di maggio a Ivrea dove avremo un open day di Rousseau per annunciare un importante sviluppo della piattaforma Rousseau che aprirà una nuova dimensione e non solo una nuova funzione e in questi contesti delle prossime settimane infatti vedremo diversi tipi di sviluppo che la piattaforma Rousseau avrà e questo percorso di crescita sarà fatto assieme agli iscritti come abbiamo già iniziato e vi abbiamo fatto vedere alcuni passi alcune indicazioni che sono già state acquisite da parte degli iscritti e ne faremo diverse anche nelle prossime settimane di integrazione e partecipazione diretta degli iscritti a questo percorso di sviluppo è un percorso di sviluppo che non finisce solo all'interno della piattaforma Rousseau che sicuramente per noi è molto importante ed è anche la nostra palestra di cittadinanza partecipata cittadinanza attiva ma è soprattutto un percorso nazionale e internazionale di cittadinanza digitale circa un paio di settimane fa abbiamo aderito a un manifesto della cittadinanza digitale che è stato promosso da varie università in giro per il mondo che ha aperto un nuovo tipo di partecipazione del cittadino alla vita pubblica che è quella di utilizzo degli strumenti digitali degli strumenti di partecipazione attiva degli strumenti di aggregazione delle persone su temi e su battaglie che vengono ritenute importanti da molti cittadini e in questa direzione continueremo sia a fare formazione e quindi con per esempio i corsi di learning ma anche la Russo Open Academy che partirà a breve e sia inizieremo e continueremo a fornire nuovi strumenti di cittadinanza partecipata cittadinanza attiva e nell'utilizzo della rete quindi vi ringrazio per essere qui oggi a ascoltare anche questo ennesimo annuncio che facciamo sulla piattaforma Russo e spero ne faremo molti anzi ne sono sicuro che ne faremo molti nelle prossime settimane perché sono già schedulati vi ringrazio allora adesso prendiamo delle domande per favore inerenti a Russo e non domande di politica libera anche se so che vi piacerebbe molto a tutti quanti fare solo l'altro tipo di domande e poi risponderemo iniziamo a prendere 3-4 domande Manuela Perrone giuro sono aderenza a Russo ma anche all'attualità perché non possiamo esimerci allora la prima volevo sapere se il contratto di governo a cui si sta lavorando sarà sottoposto al voto degli iscritti come aveva anticipato Di Maio in tv oppure no e la seconda è sapere se in vista dell'intesa sul Palazzo Chigi si prospetterà un sviluppo un'applicazione di Russo che preveda appunto una specifica collegamento con l'attività di governo e quindi magari con di collegamento tra ministri per esempio del limitato ovviamente ai 5 stelle raccogliamo un altro 2-3 domande e poi rispondiamo chi altro ha domande? Bene la Franco Palazzolo Radio Radicale Buongiorno volevo chiedervi se voi ritenete nel diciamo in questa legislatura che sia necessario intervenire con una legge organica che regoli meglio questo settore che si presta a diciamo a speculazioni politiche e attacchi come abbiamo visto recentemente nella prima e nella seconda repubblica i partiti hanno evitato di fare una legge costituzionale in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione però molti si chiedono se non sia il caso di intervenire con una legge per regolare meglio questo settore per evitare anche speculazioni politiche grazie ci sono altre domande Pietro Salvatori Luffington vabbè parlo tanto si sente il voleto volevo avere qualche informazione sull'evento del 26 aspetta Pietro è per la diretta ci ho provato volevo sapere qualche informazione in più sull'evento del 26 di cosa tratterà un po' più nello specifico se sono previsti eventuali ospiti insomma come si strutturerà un po' l'appuntamento grazie l'ultima domanda Paolo Celata un po' collegato a quello che diceva facendo questa piattaforma e diciamo l'avvio della democrazia diretta voi state per diventare forza di governo se ci saranno pronunciamenti in contrasto con quello che fa la rappresentanza di portavoce in Parlamento che succede faccio un esempio molto banale anche Beppe Grillo ha detto recentemente che vuole un referendum sull'uscita dall'euro sulla piattaforma vengono fatte delle proposte e passa a grande maggioranza che deve essere fatto un referendum sull'euro voi a questo punto siete al governo recepite quella indicazione passiamo alle risposte allora volevo innanzitutto distinguere quello che è la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica alla vita democratica del paese e quella che è la partecipazione degli iscritti del Movimento 5 Stelle alla vita del Movimento stesso quando si parla di governo a mio avviso è importante che siano attivati degli strumenti di partecipazione attiva come per esempio in Estonia o in altri paesi europei sono presenti strumenti di partecipazione attiva dei cittadini stessi oggi noi stiamo sperimentando alcune attività di partecipazione attiva degli iscritti del Movimento 5 Stelle ma in realtà se fosse già disponibile da parte dello Stato un sistema di partecipazione attiva di discussione delle leggi dell'integrazione dei cittadini all'interno delle scelte politiche sarebbe sicuramente la soluzione migliore e quindi quando parliamo di Rousseau stiamo parlando della partecipazione degli iscritti del Movimento 5 Stelle alla vita del Movimento 5 Stelle quando parliamo di governo stiamo parlando di un governo che rappresenta degli italiani quindi questa è la prima distinzione il il tema tutte queste ok quando parliamo del 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 contratto di governo questo l'ha già annunciato Luigi Di Maio che come è stato il modello che è stato preso ad esempio è quello tedesco e anche in Germania il contratto di governo è stato ratificato dagli iscritti all'Espede ovviamente noi lo faremo in modo leggermente diverso forse un po' meno costoso di quello che è stato attuato in Germania e chiederemo agli iscritti al Movimento 5 Stelle di votare direttamente online e non cartaceo come è stato fatto all'estero maggiore informazione sull'evento ah sì allora per quanto riguarda il per quanto riguarda il le informazioni sull'evento del 27 allora verrà ovviamente dato un calendario di tutti di tutti i partecipanti a breve quindi posso dire che sarà tratterà di una una grande nuova dimensione di Rousseau e alcuni nuovi eventi che verranno preparati per lo sviluppo delle funzioni di Rousseau e anche di partecipazione attiva degli iscritti no mi pare allora sicuramente come è sempre stato il il voto degli iscritti è sempre l'indirizzo principale da cui il movimento prende le sue le sue decisioni come abbiamo visto a livello di programma a livello di candidati a livello di rappresentanza in tutti i contesti abbiamo sempre visto come il il sistema di voto del del movimento 5 stelle su Rousseau è sempre stato determinante è sempre rispettato perfetto vi ringraziamo andiamo sul mondo della certificazione stiamo lavorando in diverse direzioni come abbiamo annunciato più volte stiamo lavorando tuttora su un sistema di certificazione distribuito che verrà certificato direttamente su blockchain al momento non posso dire quali sono le date di rilascio di queste applicazioni comunque sicuramente sarà un voto blindato e come sempre assicurato a tutti gli iscritti perfetto grazie mille a questo ho già risposto mi sembra che ha risposto abbondantemente quindi vi ringraziamo potete aprire la porta da lì per favore grazie 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 a tutti